Tanto come lei sa io sono un uomo paziente, contrariamente a quello che si pensa. Ogni tanto scatto perché è un modo per scaricarsi, però sono paziente e credo che in politica ci voglia pazienza. Soprattutto per due ragioni. La prima è che quando si affrontano i problemi bisogna essere consapevoli che i problemi tutti, i temi che si affrontano, hanno una loro complessità. Vedete, noi viviamo in un tempo nel quale si pensa che tutto possa essere ridotto a 150, 160, 200 caratteri di un tweet. No, non c'è nessun problema che si risolve con 200 caratteri di un tweet, di un annuncio, di un proclama. Le cose sono sempre più complicate e se si vuole fare politica seriamente bisogna affrontare i problemi nella complessità che hanno, perché se le si affronta così poi si trovano anche le soluzioni. Si è fatto un gran can-can nei giorni scorsi intorno al Fondo di Stabilità Monetaria Europeo. Poi quando si è fatta la riunione dei ministri delle finanze a cui ha partecipato Gualtieri, discutendo tra i ministri, si è trovato un punto di equilibrio. È un punto di equilibrio che porterà a febbraio ad approvare quel fondo, che è un fondo, come si è detto, salva Stati, che interviene a sostenere uno Stato quando abbia una eccezionale condizione di gravità finanziaria. Sembrava che fosse la fine del mondo. Quando poi i ministri si sono riuniti a Bruxelles, appunto, la soluzione si è trovata. Segnalo che se lei fa fare una rassegna stampa dei giornali dei 28 Paesi membri dell'Unione Europea degli ultimi due mesi, non troverà un solo articolo nei giornali degli altri 27 Paesi che affronta questo tema con la drammaticità con cui lo si è affrontata per alcuni giorni in Italia. Che loro l'hanno fatto prima, quando si discuteva, no, Fassino? A causa di come la politica, no, ha affrontato, alcuni politici hanno affrontato questi temi. Allora, prima questione, la pazienza significa misurarsi quei problemi seriamente nella loro complessità. Citato il MES, professor Brancaccio, io vengo da lei. Il grado di rischio per l'Italia c'è, non c'è, abbiamo montato, è stata montata evidentemente una polemica su un problema che non esiste in prospettiva, oltre che nel presente, oppure c'è qualcosa da rivedere? Ma guardi, io condivido la tesi secondo cui questa è un'epoca di complessità e che di conseguenza si deve fare attenzione alla complessità delle questioni per affrontarle e che di sicuro i proclami o i tweet di sicuro non risolvono le cose. Però ieri, per esempio, in tema di meccanismo europeo di stabilità, osservavo e ascoltavo con grande attenzione uno dei brillanti portavoce del Movimento delle Sardine, di cui tanto si parla. E questo giovane, in tema di MES, interpellato in tema di meccanismo europeo di stabilità da qualche malizioso giornalista, questo giovane portavoce ha dichiarato che la politica con la P maiuscola è fatta di delega ai competenti. Io sono lavorato in economia, diciamo, non pratico da un po' perché adesso mi occupo di energia e ultimamente di fenomeno di massa di partecipazione sociale, quindi non sono temi nostri. Noi da sempre abbiamo detto che la politica con la P maiuscola significa proprio delegare qualcuno che è competente e affronta temi complessi senza slogan e senza sensazionalismo. Ecco, da questo punto di vista bisogna fare attenzione, perché è vero che la delega ha i competenti e in generale la delega è il cuore della democrazia rappresentativa, però poi se si delegano, diciamo, delle questioni che hanno una rilevanza in termini di interessi politici contrapposti, cioè se si delegano delle questioni che non hanno solo un contenuto tecnico, ma hanno un contenuto eminentemente politico che è fatto di interessi in conflitto tra loro, beh lì allora la delega, la delega ai competenti, la delega agli ottimati, diventa un'illusione e diventa un pericolo. Però, professore, è anche vero che venivamo, scusi, lo dico a un professore d'economia, venivamo anche dal grillo casalinga al Ministero dell'Economia perché fa quadrare i conti di casa? C'è una vecchia citazione di Lenin in proposito, ma io non allargherei troppo il discorso. Mi limiterai a dire che il meccanismo europeo di stabilità è un bene che venga discusso pubblicamente, a me risulta che non sia discusso soltanto in Italia, ma un po' in tutti i paesi europei. Magari con meno, diciamo, clamore e meno pittoresca polemica, però viene discusso, perché ci sono delle questioni chiave in gioco. Uno dei problemi che al momento è irrisolto e che rimane pericolosamente in sospeso è che il meccanismo europeo di stabilità, per statuto, assume la prospettiva del solo creditore e quindi si distingue in modo cruciale dalle altre istituzioni europee. La Banca Centrale Europea, la Commissione Europea, per ragioni di struttura istituzionale, devono tener conto degli interessi di tutti i paesi, creditori e debitori. Il MES, purtroppo, assume per statuto la prospettiva del creditore. E questo ha poi delle implicazioni di ordine tecnico estremamente gravi. Faccio solo un esempio tra i tanti. Per valutare la sostenibilità dei debiti, il meccanismo europeo di stabilità si basa su un principio che si chiama saldo strutturale di bilancio pubblico, che è un principio molto utilizzato e abusato in sede europea, ma che rischia di creare enormi problemi quando dovesse sopraggiungere una crisi. Perché? Perché il saldo strutturale di bilancio pubblico è misurato sulla base di un ipotetico equilibrio che addirittura per il caso dell'Italia definirebbe equilibrio una disoccupazione altissima nell'ordine del 10-11% e per la Spagna addirittura nell'ordine del 20%. Ecco, utilizzare questi parametri non è questione meramente tecnica, perché da un punto di vista tecnico-scientifico questi equilibri sono delle mere assurdità, ma c'è un contenuto politico forte, quindi è bene che di queste questioni si discuta ed eventualmente si faccia anche polemica politica, non a livello di tweet, a livello di aule parlamentari.